Un bel giorno oggi, visto che San Valentino, quindi San Valentino, la città di Manto, lo dedica agli amanti di Valdaro sarà senz'altro un comitato che con la valorizzazione di questi amanti darà un contributo molto importante per il rilancio del turismo a Manto per rimettere anche Manto, come al solito, nelle nostre intenzioni, al centro degli interessi mondiali e poi per il Museo archeologico speriamo che porti fortuna questa coppia di amanti di Valdaro perché mancano alcuni fondi per portare a termine l'operazione che è stata avviata molti anni fa e quindi spero che possano arrivare dal livello centrale quei contributi che servono per aprire definitivamente il Museo archeologico nazionale Non sarà un allestimento temporaneo, in realtà, diciamo così, è una tranche dell'allestimento definitivo ridotta alla parte relativa agli amanti di Orione e il cane e i materiali coevi che verranno presentati in altre teche Per cui comunque è un allestimento definitivo Quella parte del Museo archeologico verrà aperta con questo evento, definiamolo così, ma resterà così e ci auguriamo che in breve lasso di tempo venga affiancato poi dal restante allestimento Abbiamo fatto richiesti finanziamenti sui fondi lotto del 2011 e non abbiamo avuto nulla a differenza che per il 2010, per il quale i fondi lotto avevano dato una certa cifra che è servita per completare la ristrutturazione dell'edificio L'altra domanda era sui fondi Arcus e ancora non sappiamo se ci daranno qualche cosa La sovrintendenza non ha avuto input dal comune, magari, per accelerare questo tipo di fondi? Beh, col comune c'è un rapporto ottimo di collaborazione, quindi c'è una condivisione totale delle varie tappe che stiamo affrontando nel corso dei lavori e naturalmente sia la sovrintendenza sia il comune vorrebbero una pronta realizzazione del museo In questo concordiamo Benvenuto il comitato Benvenuto il comitato, sì Non c'è giorno migliore per presentare il comitato degli amanti di Valdaro? Diciamo che non ci sarebbe stato giorno migliore per aprire l'esposizione degli amanti di Valdaro ma siccome questa è la storia, allora abbiamo scelto il 14 proprio per presentare il comitato è un comitato che vuole sensibilizzare sostanzialmente l'opinione pubblica, gli enti, le istituzioni e anche la popolazione proprio per un progetto comune su un investimento in cultura che sia un investimento per sempre, non un investimento effimero e che ponga una riflessione sull'origine di Mantova, una riflessione che stimoli studi, approfondimenti sul tema dell'archeologia e sul tema delle epoche che oggi non sono le più significative per Mantova perché non hanno lasciato reperti chiari, Medioevo e Rinascimento la tradizionale immagine di Mantova deve essere ancora chiaramente approfondita, esplorata e crediamo che anche l'apertura del museo archeologico e l'utilizzo di questa scoperta così eccezionale, così appunto nell'immaginario collettivo forte dal punto di vista della sensibilizzazione possa aiutare ad approfondire questi temi. L'idea del comitato è nata nell'autunno del 2009, poi lentamente si è concretizzata, abbiamo avuto i passaggi cambiamenti politici, le amministrazioni che si sono succedute, insomma è chiaro che questi ultimi due anni per Mantova hanno rappresentato molto ed ora direi che il grande lavoro può partire e sarà sì un duro lavoro, un duro lavoro perché è un momento economico difficile perché appunto il comitato vuole sostituirsi alla tradizionale figura e funzione degli enti e delle istituzioni ma appunto tocca due aspetti, unire le forze e rendere consapevole la popolazione e il territorio dei valori, dell'identità culturale e storica del territorio.